Bentornati sul canale di Sebicef Carena per un nuovo video, siamo a vedere, come vedete dal personaggio, un'impressione dal titolo, il nuovo PG appena uscito. Screat! Quindi abbiamo invitato il buon Condor per vedere appunto tutte le cose che ci possono essere, anche le combinazioni da poter sfruttare, è già qualcosa che è venuto fuori. E quindi, theory crafting, pesantissimo, e cominciamo, facciamo a partire la testaria così vedete anche come si comporta il personaggio, esatto, se abbiamo imparato che è dalla parte opposta che dobbiamo andare, che bravi che siamo. Ok, quindi, abbiamo, come ce l'eravamo immaginato e figurato, un mage per il nuovo PG dei Mauler, e rosichiamo già per il fatto che è un cazzo di DPS, porca miseria, e non è un support. E questo, insomma, lo potete vedere dall'icona viola, lì, in basso, a destra. Sì, se avete visto il video da 87 milioni di minuti... Ma guardatelo perché ne vale la pena, eh, c'è uno sprecato sudore. 44 minuti a diritto di video non è male, è il primo tempo di una partita di calcio. Quindi, abbiamo questo personaggio, è un mage, e andiamo a vedere, intanto, prima di tutto, vedete, primary role, AOE. Ovviamente, che, insomma, praticamente fa solo quello, fa solo cose AOE. Molto figo, eh, devo essere onesto, la testaria mi piace un sacco, però sono un po' sad, per l'appunto, perché non è un support. Perché non cura. Esatto. Abbiamo anche la signature item, per fortuna l'hanno messa, questa cosa non la vedrete, meh, la vedete. Poi, in fondo, dovete aspettare la fine del video, quindi cominciamo. Ora possono mettere in pause video e guardarsi. Certo, quello di sicuro possono farlo. Quindi, io partirei dall'ultima, perché è la passiva, proprio passiva, che ci ricorda un po' già altri personaggi, però è molto carina. Aumenta il valore crit degli alleati di 0.5, anche io lo guardo, se non per la prima, per la seconda volta con voi. Quindi, insomma, è un po' una sorpresa, non l'ho lette bene le skill, quindi lo analizzeremo proprio in totale adesso, ecco. Quindi aumenta il valore crit degli alleati di 0.5 punti al secondo, fino a raggiungere un massimo di 20 punti, dopo 10 secondi di partita. A questo punto, se parte dall'inizio. No, dopo 40 secondi. 0.5. Ok, sì, dopo 40 secondi. Poi, livello 2, penso che sia scritto... È sbagliato. Aumenta a 20 punti, magari sarà aumenta di 20 punti. Probabile. Ok, quindi raddoppia, speriamo. Non sarebbe male un upgrade che raddoppia, insomma, l'effetto... Portiamo al 100% chiunque. Della passiva. E poi aumenta il valore crit di 0.8 punti al secondo, questo vuol dire che raggiungeremo il nostro max valore crit aggiunto in minor tempo, rispetto, insomma, allo starting. Ti posso far notare una cosa che ho appena visto? Guarda cosa succede qui nella testaria. Sì. C'è l'iconcina del weather. Scusate ragazzi, questa è una cosa che dobbiamo vedere, perché probabilmente cliccandoci sopra ci fa vedere qualcosa. C'era fra i leaks, se avete visto l'angolo delle teorie, il video dell'angolo delle teorie, ora lo vediamo, qui la grafica confonde un attimino. Non ci possiamo cliccare sopra? No, non possiamo cliccarci sopra, ok. Se ci lascia il cursore sopra? No, non ci fa vedere niente. Ok, dice soltanto che ci attiva la... La tempesta. La tempesta, ok. Che ora andremo a vedere cosa fa, evidentemente non l'hanno implementato, ma insomma ci sono degli effetti che durano nella tempesta. Un po' come era con Khazard che aveva la tormenta. Quindi, se non mi ricordo che è questa la tempesta. Sì, infatti, tempesta di sabbia. Allora, intanto è in inglese. Giusto per aiutarci a non capirci un cazzo. Allora, Skriat, o Skriat, non so come cazzo si pronuncia. Skriat è meglio. Skriat è più Skrreg. Crea una tempesta di sabbia, una sandstorm, che dura per 12 secondi. Che è imperversa per 12 secondi, sembra di essere il terrempesta di Pokémon. La tempesta di sabbia riduce la curatezza dei nemici di 100 punti, che non è per niente male. E in più anche la loro furia di 25, che è molto molto buona. In più, a livello 2 Skriat infligge il 20% dei danni extra nemici che si trovano all'interno della tempesta di sabbia. Quindi per 12 secondi fa il 20% dei danni bonus, non male. E a livello 3 la durata è prorogata. Senti lì che robe, che termini aulici che utilizza. Che in realtà, penso volesse vedere, è prolungata. Sì, hanno miscliccato pesantemente. E fino a un massimo di 15 secondi. Quindi non male. Manteniamo per un po' questa cosa. Sarebbe carino di vedere una relic nei prossimi giorni, cioè nei prossimi periodi di patch, che riduca il cooldown dei Mauler, come c'è per i mage, cioè per tutti i Greyborn. Potrebbe essere carino vederla anche per questo, per mantenere magari una tempesta a diritto. Sarebbe veramente figo. Ok, guardiamo ora la... Morte dall'alto. Questa è palesemente la frana di Pokémon. Allora, questa vi porta fuori. Perché se state guardando il testa eroe, sulla vostra sinistra, non sono grandi massi. Sono tipo dei sassolini. Ci sono rimasto male quando l'ho visto. Perché quando l'ho letto, l'ho letto da un'immagine, quindi non ho visto il testa dell'eroe. È la polvere di stelle per fare pan di stelle. Minchia, ora pietroni dal cielo. Invece no, sono dei piccoli massi. Non sono dei grandi massi. Ma questa è una considerazione solamente visiva. E infliggono 160% di danni aoe a lui e ai nemici vicini. E poi lo scaling con il danno che non ci piace. Pregnato. Non ci piace. Doveva fare più o meno qualcos'altro. Però se vogliamo trovare un lato positivo di questa skill è che va in combo con la ulti. Va in combo con la ulti. Ora lo vediamo subito. Perché infligge 160% di danni aoe a lui, al nemico colpito, ha slideato e ai nemici vicini. Quindi già che i nemici vicini non prendano meno danno, ma se prendano tutto il danno, questo ci può stare. In più, ora andiamo a vedere la ultima. Comunque non è tantissimo danno. Per essere una skill con il range così piccolo non è tantissimo danno. Considerato che non fa nient'altro. A questo punto potremmo aspettarcela. No, ma non credo che la cambieranno nell'uscita sull'ufficiale. No. E qui c'è la ulti che a te piace un sacco. Praticamente, come vedete nella testaria, al momento lo sta appunto facendo. Praticamente facciamo... Sono palesemente delle sabbie mobili. Sì. Vortice e desert sono sabbie mobili. Che a Dragon non ha un range così grande. No. E questo è un peccato. Però, allora, dovremmo capire... Ok. Lo evoca sempre al centro della formazione nemica. Che però, come vediamo, dalla testaria, lo evoca sempre nel centro. Lo evoca nel centro della formazione. Quindi fa un calcolo in modo da prendere più gente possibile. E questo è molto buono. Questo è molto, molto buono. Dura cinque secondi, attrae la gente nel mezzo con una sorta di buco nero e... E... Domanda. Smettono di schillare? Sembra di sì. Sembra che siano mini stannati. Questo sarebbe molto buono. No. No, attaccano lo stesso. È solo una questione di movimento. Questo non ci piace. Non ci piace per niente. Subiscono il 70% di danni al secondo. Quindi sono 350 danni in percentuale. E poi arriviamo a un massimo di 400. Che in realtà avrei preferito, tipo, riduzione ancora di fretta o robe del genere. Allora, nel complesso... Allora, quello... La mia valutazione è proprio secca, ok? Così, a caldo del PG, lo skillset mi piace. Escluso per le rocce che non mi piacciono tanto. Però comunque ci possono stare. Quello che secondo me rende questo PG normale, ok? È lo scaling dell'abilità. Che mi fa cacare. Mi fa cacare perché qui non mi dà il danno. Qui mi dà il tempo. Qui mi dà la durata. Qui mi dà che dentro il vortice possono utilizzare solo gli attacchi normali. Vero. Ipotizzo. Non mi dà l'80% di danno che per 5 secondi mi scisciacco. Sì, sì. Sono un po' alterato perché mi fate lo skillset buono. Perché comunque questa skill, ad esempio, la vortice del deserto va in combo con la caduta delle rocce. Perché se fa la caduta delle rocce immediatamente dopo aver skillato con la ulti, schiappa tutti quelli nel mezzo e i danni sono buoni, ok? Mi fanno una ulti che raggruppa le persone che quindi mi lascia immaginare e sognare che nelle ulti con un piccolo range ci possono andare in combo, però... Belinda, Guinet, quanti ce ne sono. Eiron che dopo che ha preso da fare un pull si porta tutto il party addosso, cioè... Veramente potrebbero esserci tante belle cose, però come ti avevo detto anche prima quando se ne discuteva fuori, ecco, il PG non è anche perlomeno ora a pelle. Dobbiamo scoprire l'assignatura item. Esatto. E lì... Poi o magari ragazzi le skill sono talmente tanto forti e noi non riusciamo ancora a vedere tutte le combo, qualcuna si può già intuire, ma non riusciamo a vederle tutte che hanno deciso di fargli uno scaling putrido. Allora, io ti dico la verità, lo possiamo far vedere. Una cosa che si nota dal test serve. Prendiamo un PG che fa danno. Un PG che fa danno è Shemira, per esempio, che la conosciamo tutti. E vediamo quanto danno fa mentre è nella testaria. Guarda quanto disintegra la gente. Cioè, ogni sua skill fa veramente tanto male. Ora, appena arriva la ulti, come vedi, cioè, qui la possiamo fare un paragone. Certo, certo. Non è veritiera la testaria alla fine perché non abbiamo, non possiamo metterlo in combo. Chiaramente questo è un personaggio che più che un DPS è un debuffer. Però, cioè, guarda con che facilità si fa la gente. E questo vale per tantissimi personaggi. Questa è una cosa che avevo notato. Lo scaling dei danni, delle abilità, è ridicolo. È ridicolo. Palesemente la sua utilità è il fatto che vada... Va detto che una cosa che ho notato ora, facendo un calcolo, un paragone stupido sui numeri, è che il valore d'attacco al grado massimo d'ascensione è maggiore di quello di Shemira. Quindi non farà pochissimi danni. No, ma sicuramente... Ora, la testaria per l'appunto è considerata con il PG asceso. Esatto. Con il PG come lo vediamo nel ritratto. Quindi in realtà i danni quelli sono, non sono un granché. L'unica cosa che fa di veramente buono, che diciamo, dove cazzo sei, e che è veramente utile, è per l'appunto questo fatto di aumentare il critico a tutti. Perché è vero che... Normazioni critiche. Sì. Anche voi. Vabbè, affanculo. Ormai il Dain ha abbelenato contro questo PG. No, se pensiamo che, cioè, stiamo parlando di un personaggio che comunque va a fare per lo più utility, perché non lo giocheremo mai come DPS, lo giocheremo come utility prevalentemente, il fatto di poter utilizzare un buff intrinseco al critico, noi siamo abituati a giocare Shemira. E questo è un grosso limite anche, un grosso limite mentale, diciamo. Che cosa porta a pensare? Che il buff al critico non serve un cazzo. Che è vero ragazzi, perché se giocate Shemira, Shemira con gli equip mitici più al 90% di critico di partenza, quando è full vita, quindi porta un cazzo di buffare ancora il critico. Però se giochiamo alla Belinda, la Belinda non ha il 90% di partenza, con questo arriva al 100%, che comunque buffa critico e danno. Ecco, qua una cosa che mi sarebbe piaciuta vedere, invece di aumentare il critico, che porca ma ora la tiro, non serve a niente, è un bonus al danno, un enhancement agli altri alleati, un bonus alla fretta, un bonus al budello di... Ma, niente, niente, vabbè, vediamo la signature, perché ragazzi, la signature cambia il personaggio completamente. Insomma, abbiamo visto diversi personaggi, con la signature si può trasformare un personaggio da mediocre, come potrebbe essere un... Ce la posso fare, un Arturo, un Arthur Pendragon, che era mediocre, insomma, era un discreto skill set, però niente di particolare, niente di eccesso, ma con la signature fa il surplus, e quindi vediamo la signature item, che ancora non abbiamo visto, vedo già, danno aumentato, che vergogna! Vergogna, ok, allora, HP come primo, attacco come seconda e difesa come terzo, mi piace, schivata, molto buona, questa è a più 30, questa è un'altra cosa molto bella, possiamo vedere finalmente come sono le signature item a più 30, esatto, maxate, quindi partiamo, esplosione dei massi, quindi già che vada sui massi, mi piace e non mi piace, però ogni volta che scrivate infligge un colpo critico a un obiettivo nemico, a quest'ultimo cadono addosso degli enormi massi, ecco, questo è molto interessante, friggono il 50% di danno a lui, ai nemici vicini, che è poco, però considerando quanti cazzo di critici possa fare, e sono abbastanza convinto che influisca anche sulla tempesta. Non è male, ragazzi. Eh, se cominciasse a criticare sulla tempesta, insomma, cominciano ad essere diversi danni, perché, insomma, tempesta, tic della tempesta e massi in faccia. Quest'abilità non è in grado di infliggere danni critici da sola, e può interessare lo stesso nemico solo una volta, e invece no, e invece doveva non esserci questo limite, perché per ora il personaggio è da, c'è proprio crocione, nero, già i mauler avevano bisogno di un support, il DPS in realtà già ce l'hanno, perché c'hanno sia Kasos che Satrana e Antandra, che sono tre personaggi che fanno un male cane e sono molto più performanti al momento. Abbiamo P10 e P20, danno aumentato, vergognoso. Però, però, la 30 non è male. Tempesta di sabbia, tutti i nemici, cioè, durante la tempesta di sabbia, tutti i nemici subiscono danni pari al 2% della loro salute attuale a ogni secondo, indipendentemente dal valore di difesa, tra l'altro è salute attuale. Cioè, è veramente pessimo questo RPG. Ma devo essere sincero, questo si piazzerà, così non lo facciamo mai in realtà, non lo diciamo mai dove, secondo me, si potrebbe piazzare il personaggio, perché in realtà ultimamente sono usciti tutti i personaggi che andavano in tera, perlomeno. Tera e Tera S, sono tutti molto forti. Questo personaggio per me è un tier A, B, C, D, E e F, mi sembra si fermi a F. Forse D. Forse D, voglio essere buono, forse D. In campagna, pessimo. Pessimo, proprio. Campagna, tier S, shit. Tier S, shit. Tier M, ecco, perché S può essere forbiante. Poi, vabbè, delusione, grossa delusione, ecco. Per me è un PG veramente brutto. Pollice verso, per Scriat. Sì, direi, con l'amaro in bocca lo lasciamo, non possiamo neanche vedere. E speriamo di non aver fatto bene i calcoli. Speriamo di non aver fatto bene i calcoli e che danni siano tanti. Soprattutto con la signature ability che gli permette di lanciare i pietroni ogni volta che critta. No, questa è una cosa, questo è un bel surplus, però mi sarei aspettato in quell'errore, cioè, come qui, come qui, qui no, qui no, qui qualche cosa cambia. E come qui, diciamo, che non ci si muove da quello che già fa l'abilità. Non ci sono particolari feature aggiuntive che il personaggio sblocca con i livelli. Qui dovevamo prestare ancora su Last, ti potrebbe essere un'idea. Oppure doveva fare ogni volta che cascano le massi addosso, fa Ministun. Cazzo ti cascano le massi addosso, Ministun ci potrebbe stare. Potrebbe essere utile, non eccezionale, ma comunque uno pseudo ferail che non abbassa l'energia, ma che però con i tick interrompe, potrebbe essere una cosa di un minimo più interessante. La vedo male per il nostro Scriat, che non sarà Scriat che è crasto, ma sarà Scriat che è un po' come il suono delle mie natiche quando scorreggio, ecco. A questo punto, mi dispiace ragazzi, ma per me è bocciatissimo, ecco. Cioè, se ripensiamo, gli ultimi personaggi usciti, cioè, Wukong, che a me piace un fottio, cioè, lo sto giocando nel test server, ragazzi, con Lucius, a livelli bassi fa delle buche in terra clamorose. Cioè, Khazard, purtroppo non lo tireremo mai su, sarà un sogno lì che rimane nel cassetto, ma ha delle... Si stanno ispirando molto a Pokémon, vedo, negli ultimi giorni. Cioè, delle possibilità infinite. Talin. Talin è fortissima. Talin, che è fortissima. Poi, chi cazzo è uscito, comunque, con TMPG? Ma è quello prima di loro, pensi a Arthur. A Arthur, che è Arthur. Insomma, diciamo che questo, ecco, non si... E Ogan. Ogan, fortissimo, gli hanno anche tolto, sono contentissimo. No, gli hanno tolto, gli hanno tolto la reliquia dal labirinto. La Ogan's Fortitude l'hanno tolto. Petizione per riavere la reliquia di Ogan nel labirinto. Petizione per dare la reliquia di Ogan nel labirinto per ma... Da poter giocare anche in campagna. Ok. Ha senso. Ha senso. Ha senso. Non droppi l'equipo mitico, peccato. Bene, io direi che possiamo concludere qui con veramente l'amaro in bocca. Un pochino. Purtroppo, molto triste questo personaggio. Questa era l'analisi di Scriat, che la metteremo nell'Aftdex. A questo punto, perché non ci ritornerò assolutamente sopra per analizzarla in altre maniere, vi dico la verità, ecco, Fanta Combo, sì, Fanta Combo, ce ne possiamo fare di Fanta Combo. Magari inserirlo come quinto membro al posto di, non mi ricordo chi cazzo c'è, nella team comp, quella che spinge tutti in fondo per poi poterli raggruppare ancora con Gwyneth, che gioca Seirus, Hendrick, Gwyneth, Laika e... Eh, non me lo ricordo. Scriat. Scriat. La scriecchia. Questa scoreggia vivente. Che tristezza, ragazzi, no, mi fa veramente pena. Chiudiamo qua il video. Sì, lo chiudiamo qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare, non iscrivetevi, dopo un video del genere, veramente triste. Beh, io direi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi ci avete visto qualcosa che noi non ci abbiamo visto. Eh, ma fateci sapere perché siamo curiosi, eh? Sì, sì, no, sicuramente siamo curiosi. Non è che siamo portatori della... E invece sì. No, per me è salmonato, buttate tutte le gemme prima che esca una nuova faccia. Così almeno avete meno possibilità di trovarlo. E non mettetelo mai nella... Nella wishlist. Metteteci piuttosto... Anch'ira. Sabe, assi, Anch'ira. Per il food. Goalus sportissimo, il miglior tank del gioco. Oddio. Quindi, niente, vi ringraziamo di essere stati con noi, per questo video. Non ho buone parole. Basta, io vi saluto, sono Sebici. E io sono il Contro del Passo. E noi ci vediamo prossimamente per un altro video.